Per oggi frittatine con pancetta in frigitrice ad aria. Vediamo come preparare. In una terrina mettiamo uova, un po' di pepe nero, un po' di sale e il parmigiano. Se volete potete utilizzare anche del pecorino, quindi sbattere il tutto con una forchetta. Scorso questo tempo mettiamo tutto il composto negli appositi pirottini in silicone. Programmiamo la frigitrice ad aria. Io nella mia a 170 gradi. Ovviamente preriscalda in automatico, quindi io la lascio adesso il tempo che fa il suo bip. Sistemiamo tutti i pirottini nel cestello. Aggiungiamo un pugnetto di pancetta per ogni pirottino. Io ho utilizzato pancetta affumicata. Adesso siamo pronti per la cottura. 170 gradi per 10 minuti. La mia spruzza olio in automatico, grazie al contenitore. E quindi io gli farò fare due spruzzi per questa cottura. Ed eccoli pronti da gustare. Che profumino! Grazie a tutti! Grazie a tutti!